Prove di alta velocità in California, la pista avanza 1300 all'ora, questo succede al pilota quando il traino rallenta la sua folle corsa. Ecco un nuovo tipo di lancia razzi, seguito da una macchina cinematografica a 2000 fotogrammi al secondo. Il tubo lanciatore si sbriciola sotto una pressione terrificante, senza smettere tuttavia di spingere in alto il suo ordigno. Attorcigliandosi, girando e carenando all'impazzata, il razzo serpenteggia su di un sentiero di distruzione attraverso il desolato groviglio delle rovine. Simile ad un'ombra, il tubo del razzo viene verso di noi scagliando a terra la macchina da presa. Spettacolo unico che nessun operatore potrebbe mai girare.